Miei cari, buona e santa serata a tutti, buona domenica sera. Infatti termina questa domenica la ventinovesima del tempo ordinario dove abbiamo sentito questo invito, no, di Gesù. Date a Cesare quello che è di Cesare, quindi l'invito ad essere sempre onesti cittadini, a fare il nostro dovere e date a Dio quello che è di Dio. Molte volte abbiamo interpretato questo passaggio dicendo l'importanza del tempo da dare al Signore ma c'è una cosa molto più importante del tempo che è la nostra vita, quindi dare la nostra vita al Signore. Dentro di noi c'è il germe divino, noi siamo fatti da Dio, creati da Lui, dare a Dio quello che è di Dio e per questo noi siamo Suoi. Non possiamo stare senza il Signore, non possiamo camminare senza di Lui, non possiamo pretendere di salvarci senza di Lui. Termina poi questo giorno dedicato a San Giovanni Paolo II e io devo molto a Lui, no? Pensate che prima di entrare in seminario ebbi questa prova terribile perché cadi a terra con il calice del vino consacrato in mano. Noi sappiamo che quello è il sangue di Cristo e allora si è persa la mia speranza e ho detto «Ma se non riesco a tenere un calice in mano un giorno, come potrò fare il prete?» E mi allontanai dalla chiesa, non la frequentai più per tanti mesi. Poi il Signore mi richiamò attraverso un episodio particolare e io ritornai in chiesa e entrai in seminario e subito, subito dopo l'ingresso ebbi la grazia, la gioia di incontrare Giovanni Paolo II che stava malissimo e ebbi la forza di inginocchiarmi davanti a Lui e di chiedere la benedizione e il padre spirituale mi disse «Lo vedi il Papa? Nelle sue condizioni, ma con la grazia di Dio lui riesce a reggere il mondo, anche tu. Con la grazia di Dio potrai fare il prete perché per fare il prete non servono gambe forti ma un cuore ricco dell'amore di Dio. Tu ami? Risposi di sì. E allora vai perché il Signore ti porterà dove vuole Lui, renderà le tue gambe forti». E questo è vero perché oggi io giro l'Italia dove mi chiamano, dove mi invitano a portare la mia testimonianza, a presentare i libri. Ecco, quello che voglio dirvi è non pensatevi falliti perché è successo questo, quest'altro, perché vivete questa situazione o perché non siete riusciti oggi a fare una cosa. A volte si fallisce per sperimentare di più la potenza e l'onnipotenza di Dio. E domani inizia la novena di tutti i santi. Voi la troverete qui sul canale YouTube. È uguale per tutti i nove giorni. E poi dopo domani inizia la novena dei defunti. Io vi raccomando di farle sia l'uno che l'altro perché dobbiamo invocare i santi per essere aiutati. E dobbiamo pregare molto per le anime del purgatorio. Non dimenticatevele mai. Mai. Perché se voi, attraverso la vostra preghiera, avrete aiutato un'anima ad entrare in paradiso, sarete sempre sotto lo sguardo di quell'anima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amin. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amin. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amin. Se Dio vuole ci vediamo domani. E a proposito di Giovanni Paolo II, domani non perdetevi il video del buongiorno, perché la storia vi farà emozionare, ma non è una storia inventata, è una storia vera. Vi lascio un bacio e un abbraccio. E sapete, io ve lo dico sempre e ve lo voglio dire ancora. Vi voglio tanto, tanto, tanto bene. Ho creato un canale WhatsApp. Chi ha WhatsApp basta aiutarsi o se lo sa fare trovare canali WhatsApp e poi digitare il mio nome e cognome Don Francesco Cristofaro. Anche sulla pagina Facebook c'è il link. Quindi ne sono già entrati 600, quindi vuol dire che molti siano già riusciti a farlo. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, buonanotte e vi voglio bene tanto, 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 tanto. Buonanotte.